A una settimana da ritorno a scuola sono già 32 le classi in quarantena per il coronavirus. Da lunedì alunni in presenza, anche se non mancano i timori in vista della maturità. Due incendi nella Brianza Lecchese, a calco nella notte un incendio ha divorato un appartamento, salvato uno degli occupanti a Montevecchia, in fiamme un'auto in un garage. Lettera aperta dei dipendenti dell'ospedale Mandic di Merate, assistiamo a un lento e inesorabile indebolimento della nostra struttura, scrivono, temiamo per il futuro del presidio. Nel centro di Castello c'è un palazzo storico che la parrocchia vuole valorizzare, un piccolo gioiello dimenticato che avrebbe tante potenzialità e meriterebbe di essere visitato. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. A una settimana dalla riapertura delle scuole sono già 32 le classi in quarantena in provincia di Lecco. E da lunedì prossimo tutti gli alunni saranno in presenza. Dubbi da parte dei presidi a rischio la maturità, dicono. Da 8 a 32 classi in quarantena in provincia di Lecco in poco più di una settimana. Con la riapertura delle scuole superiori, seppure in presenza al 50%, si moltiplicano i contagi. Gli ultimi numeri forniti da TS Breanza parlano appunto di una trentina di classi in isolamento, 9 all'Ecco città, 5 in istituti superiori. La quarantena scatta se il soggetto risultato positivo, senza evidenza di variante al virus, ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone. Se invece viene riscontrata una variante Covid, il tracciamento andrà indietro fino ai 14 giorni precedenti il riscontro della positività. Intanto dal 26 aprile dovrebbe scomparire la didattica a distanza, con la presenza degli alunni in classe al 100%. Qualche perplessità da parte dei presidi lecchesi. Le norme si applicano e non si commentano, dice il dirigente dell'Istituto Fiocchi, Claudio Lafranconi. Noi siamo pronti, anche se il termine rischio calcolato non è esattamente nelle mie corde, soprattutto vissi gli attuali numeri delle classi in quarantena. Nessuna però ai Fiocchi. Abbiamo chiesto al Ministero se i protocolli Covid applicati già dallo scorso settembre sono validi, anche in presenza delle varianti, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. A preoccupare soprattutto la maturità, anche un solo studente positivo potrebbe far slittare gli esami. Per questo, come Istituto Fiocchi, conclude Lafranconi, stiamo valutando, se la normativa lo consente, di mettere in dadda a partire dal 1 giugno gli studenti di quinta. L'obiettivo è quello di diminuire il rischio. Grave incendio ieri sera in via nazionale a Calco. Il rogo in un condominio su più piani è abitato da circa 20 persone, sul posto ai vigili del fuoco, con un totale di 4 automezzi e 14 pompieri. Il tempestivo intervento ha permesso di trarre in salvo un uomo che era rimasto bloccato in un appartamento in fiamme al pian terreno. Una volta recuperato, portato in zona sicura, i soccorritori di Areolo hanno rianimato e trasportato all'ospedale di Merate. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Incendio questa mattina anche in un appartamento in un box a Montevecchia. Sul posto sono giunte 5 squadre del comando dei vigili del fuoco, due autopompe, un autobotte, un'autoscala e un fuoristrada. Le fiamme sono state domate, poi sono state effettuate le opere di bonifica. E cambiamo argomento. Nonostante le rassicurazioni del passato, assistiamo a un lento e inesorabile indebolimento della nostra struttura ospedaliera. Lettera dei dipendenti del Mandic di Merate. Temiamo per il futuro del presidio, dicono, e intanto il 14 maggio ci sarà lo sciopero per la difesa del diritto alla salute dei cittadini. Una lettera firmata da alcuni dipendenti dell'ospedale di Merate per chiedere che il presidio Brianzolo torni a riappropriarsi del ruolo istituzionale che gli compete. È stata inviata al presidente di Regione Lombardia, Tilo Fontana, ai vertici di ATS Brianza, SST Lecco e ai sindaci dei comuni afferenti al Mandic. Dubbi e timori sul futuro del presidio messi in nero su bianco. Nonostante le rassicurazioni del passato, assistiamo ad un lento e inesorabile indebolimento della nostra struttura ospedaliera, si legge nella messiva. Chiusa la chirurgia pediatrica, spostamenti di servizi da Merate a Lecco, farmacia, medicina trasfusionale, anatomia patologica, microbiologia, allergologia. Riduzione di attività di reparti e servizi, attività amministrative, emodinamica, elettrofisiologia, attività operatoria, automedica. Nella lettera si denuncia che gli spostamenti di personale sono quasi sempre unidirezionali, da Merate a Lecco, per sopperire alle carenze di organico. L'assegnazione dei ruoli dirigenziali riservati a dipendenti in servizio presso all'ospedale di Lecco. E ancora, nella speranza che i lavori di riqualificazione del pronto soccorso possono finalmente partire, dobbiamo però constatare che lo stesso continua ad avere le gravi carenze di personale, soprattutto medico, che limitano una pronta risposta ai bisogni dell'utenza, di un servizio fondamentale per il territorio e biglietto da visita dell'ospedale. La richiesta è quella di una maggiore collaborazione tra i due presidi, a partire dal riconoscimento di pari dignità. Sul tavolo anche la diminuzione del personale per la fuga di professionisti verso altre strutture, carenze di organico che non sempre vengono colmate e che l'emergenza Covid ha evidenziato e aggravato. La missiva si chiude con la domanda di impegni chiari e precisi su quale sarà il futuro della sanità pubblica del territorio e ruolo dell'ospedale di Merate. Una polemica che si innesta nello sciopero proclamato dai sindacati per il prossimo 14 maggio, con un presidio dalle 8 alle 10 davanti agli ospedali di Lecco, Merate e Bellano. Contro l'incapacità dei vertici di gestire la pandemia e vaccinare nelle strutture di prossimità, contro la cronica mancanza di personale, l'attivazione indiscriminata della mobilità d'urgenza, la mancata sicurezza dei lavoratori con 850 operatori contagiati nell'ultimo anno, scrivono i sindacati. C'è anche una società con sede a Val Madrera coinvolta nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Piombino che ha smantellato una maxifrode internazionale nel settore del commercio all'ingrosso di materiali metalliferi e ferrosi. L'indagine ha portato alla scoperta di società cartiere che hanno emesso fatture false milionarie, poi circolate tra Milano e Napoli con il coinvolgimento di aziende estere. Fatture false per complessivi 760 milioni di euro che hanno interessato 62 imprese in un giro che era gestito da un sodalizio criminale campano. Gli agenti hanno sequestrato beni per 36 milioni di euro. Siglato un protocollo di intesa contro il reato dell'usura nella provincia di Lecco. La pandemia ha aperto enormi spazi per l'infiltrazione della criminalità, ma Lecco ha gli anticorpi giusti per prevenire questa piaga sociale, afferma il prefetto Castrese De Rosa. Un protocollo di intesa per la prevenzione del contrasto del fenomeno dell'usura nella provincia di Lecco è stato sottoscritto lunedì mattina presso la sede della Camera di Commercio. Uno strumento, come sottolineato dal prefetto Castrese De Rosa è dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, il prefetto Giovanna Cagliostro, collegata online, che si è reso necessario poiché la pandemia ha aperto nuovi spazi di infiltrazione per la criminalità organizzata. I rischi ci sono, l'allarme usura è tra gli allarmi più importanti in questo periodo. La pandemia ha creato una mancanza di liquidità, soprattutto in quei settori maggiormente colpiti. Pensiamo alla ristorazione, al turismo, a tutte le imprese al mondo del commercio di beni non essenziali. Quindi questa è una misura preventiva, cioè noi cerchiamo di far sì che gli imprenditori in difficoltà non abbiano esigenza di rivolgersi al credito facile, agli usurai, a coloro che propinano liquidità a basso costo per poi alzare i tassi usurari e poi addirittura impadronirsi delle imprese. Creiamo strumenti pratici, diamo dei tempi ben precisi per l'istruttoria delle pratiche, creiamo le figure dei facilitatori, dei referenti e poi un osservatorio provinciale in prefettura che farà da monitoraggio. Il protocollo è frutto di un lavoro di squadra che parte dalla prefettura, che coinvolge la Camera di Commercio Comolecco, la Commissione regionale Abilombardia, il Presidente della provincia di Lecco, i sindaci di Lecco, Merate, Calolzio Corte, Casate 9 e Mandello, le associazioni di categoria e gli istituti di credito. Io ho sempre detto che da soli non si va da nessuna parte. Se ci mettiamo insieme, l'abbiamo fatto in poco tempo, in pochi mesi, creando degli strumenti adatti, questo territorio ha gli anticorpi per rispondere alla criminalità. Se noi riusciamo a metterci insieme, a creare gli strumenti per prevenire fenomeni malavitosi, non c'è bisogno poi di reprimere. Io credo molto nella prevenzione e questo è uno strumento che va in questa direzione. Nuove idee per lo sviluppo del turismo. In città più di 60 ragazzi hanno partecipato a Duck for Tourism, gara di idee riservata agli Under 30. Quattro i progetti vincitori che ora saranno accompagnati nella loro crescita. Una nuova piattaforma digitale per i prodotti a chilometro zero, una rete di percorsi per le mountain bike con tour guidati, un hub alla piccola per il turismo sostenibile, infine un portale volto a promuovere il turismo di prossimità. Queste le quattro idee che hanno vinto la prima edizione di Hack for Tourism, evento promosso da Comune di Lecco, Lega Ambiente Lecco, Studio Ares e Consorzio Consolida, che si è svolto sabato e domenica nella sede lecchese del Politecnico. Una maratona creativa di 12 ore, riservata ai giovani tra i 17 e i 30 anni, che ha visto 62 iscritti. È un momento meraviglioso. Ho appena assistito all'esposizione di dieci idee turistiche sulla nostra città, dieci ragazzi che in un minuto a testa hanno presentato delle innovazioni, delle proposte che potrebbero anche diventare delle imprese. Infatti concorranno insieme agli altri ragazzi a costruire una possibile start-up. C'è una grande vivacità. Partire dai ragazzi, partire dai giovani per costruire la città di domani è una grandissima sfida che tutti insieme vogliamo vincere. Sentire dei ragazzi e delle ragazze dedicarsi in maniera così approfondita a capire come fare a sviluppare progetti sostenibili, progetti legati sia al lago che alla montagna, progetti legati all'economia circolare. È stato davvero un grande aiuto anche per noi amministratori nel capire su cosa possiamo puntare nei prossimi mesi. Questi ragazzi sono attenti ai bisogni, ai bisogni a 360 gradi, quindi hanno tutta la mia ammirazione. I quattro gruppi premiati, uno per categoria, avranno la possibilità di sviluppare la propria idea all'interno del piano di impresa di una realtà del terzo settore della provincia di Lecco che si farà carico di candidare il progetto al bando Eco, economia di comunità della Fondazione Cariplo. Credo che il valore sia quello di promuovere un'idea di sviluppo per il nostro territorio in uscita da una crisi terribile e uscirne con delle idee nuove. Ecco, per uno sviluppo, una ripresa dello sviluppo del nostro territorio, delle nostre comunità basate sull'idea della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il 22 aprile è la giornata della salute della donna. Da oggi partono gli eventi promossi dall'SST di Lecco e da Fondazione Onda per la sensibilizzazione e la prevenzione delle patologie tipicamente femminili. Vediamo. Diritti delle donne in maternità e disagi delle adolescenti ai tempi del coronavirus sono solo due dei 22 temi che tratta la SST di Lecco in occasione della giornata nazionale della salute della donna. Una settimana di appuntamenti fino al 25 aprile durante la quale sarà possibile avere consulenze telefoniche e partecipare a incontri virtuali su argomenti che vanno dalle malattie tipicamente femminili agli aspetti psicologici più delicati da tutti i consigli relativi alla gravidanza e primi mesi di vita del bambino al funzionamento degli sportelli antiviolenza. L'occasione nasce grazie a Fondazione Onda Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere che dal 2016 organizza questo evento con l'obiettivo di promuovere l'informazione e far conoscere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Su 335 strutture coinvolte partecipano a quest'edizione 180 ospedali tra cui il Manzoni di Lecco e il Mandic di Merate. In questa particolare emergenza sanitaria i nostri operatori intendono sensibilizzare le donne sull'importanza del prendersi cura della propria salute commenta Paolo Favini direttore generale di SST Lecco. Quest'anno l'urgenza è infatti l'aumento delle rinunce alle cure da parte dei pazienti non Covid-19 ma la necessità principale resta la sensibilizzazione alla prevenzione. prosegue Favini è sempre bene ricordare che la diagnosi precoce rimane la più importante arma per battere sul tempo molte patologie. Per consultare le iniziative e servizi offerti con date, orari e modalità di prenotazione visitare il sito www.bollinirosa.it Nel quartiere Lecchese di Castello c'è un piccolo gioiello architettonico dimenticato un palazzo che la parrocchia vuole recuperare e valorizzare. Vediamo. La settecentesca casa a Rigoni oggi sede delle attività pastorali della parrocchia di Castello di Lecco sarà oggetto di importanti opere di valorizzazione per portarne alla luce le bellezze nascoste restituendole così alla comunità. Un progetto di ristrutturazione perché ci siamo ritrovati l'anno scorso durante l'estate una sorpresa la sorpresa dell'instabilità del tetto che appunto stava per crollare e allora questo ci ha portato a dirottare un po' il nostro sguardo, la nostra attenzione su questa struttura, su questo palazzo storico e allora stiamo facendo degli studi di valorizzazione di questi elementi per vedere il loro stato di conservazione e di conseguenza l'urgenza di un adeguamento. Sono coinvolti i vari specialisti e partiremmo dalla parte esterna per la quale ci possa essere un contributo da parte degli enti pubblici e quindi si spera anche da parte dei parrocchiani una attenzione, una generosità per riportare alla memoria storica questo bene che ci ritroviamo e che finora non è stato forse, mi sembra, così adeguatamente apprezzato. Casa Rigoni nasce nel primario del Settecento il committente Salvatore Rigoni, notario appartiene a una famiglia storicamente che è stata di supporto alle necessità della parrocchia o comunque della comunità. Che cosa c'è di particolare da recuperare? Della parte monumentale rimangono non si è breve però parecchi elementi a partire appunto dalla facciata notevole l'ingresso col portale balconcino con elementi lapide decisamente originali e poi questa scala. Lo scalone è un elemento decisamente importante soprattutto per quanto riguarda il contesto lecchese non si trovano qui in zona balaustre di questo tipo e in fondo proprio in questa posizione da cui sto parlando si trovava il finestrone che attualmente è collocato presso la giardino di Palazzo Belgioioso se gli enti saranno d'accordo potrebbe essere interessante rivalutarne una restituzione e comunque una ricollocazione nel suo posto originario. Questa era l'ultima notizia io vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi sui nostri canali social sul sito teleunica.com e sulla nostra web tv vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.